Ciao a tutti, oggi video importantissimo perché per chi non lo sapesse questo è il mio ultimo video per quanto riguarda la 30 video challenge Nell'ultimo mese ho cercato di portarvi un video al giorno e ci sono riuscito Avete supportato tantissimo questa mia sfida Vi ho lasciato una playlist in cui potete recuperarvi i video che non vi siete visti Si chiama 30 video challenge in cui appunto ci sono elencati tutti i video che ho fatto in questo mese qua Quindi appunto se vi siete persi qualcosa andatevelo a recuperare Detto questo oggi portiamo un video molto interessante perché andiamo a vedere quali sono stati i movimenti che ha fatto Jim Simmons nell'ultimo trimestre Jim Simmons è una fonte di grande ispirazione per me Alcune cose mi piacciono davvero tanto del suo stile di investimento tant'è che ho creato appunto un algoritmo mio per valutare le aziende Tra l'altro so che me lo chiedete in tantissimi però a breve vi permetterò anche forse di utilizzare il mio algoritmo Ma comunque ci aggiorneremo in futuro Per chi non sapesse chi sia Jim Simmons vi dico solo che è un matematico di origine americane Ha all'incirca 23 miliardi di dollari di patrimonio e nel 1982 ha creato forse uno degli hedge fund più redditizi della storia Considerate che ha creato addirittura un fondo chiamato Medaion che dal 1988 al 2018 ha avuto una performance annua media del 35% Follia Sostanzialmente lui insieme alla squadra di altri matematici hanno creato un algoritmo di trading super avanzato Che gli ha permesso di sovraperformare il mercato praticamente in ogni anno della sua storia Ed è quello che sto cercando anch'io di fare Considerate poi che dal 2001 al 2013 l'anno in cui hanno avuto la performance peggiore è stato di un più un 21% Cioè follia è una grandissima fonte di ispirazione per me Tra l'altro una cosa che va forse contro tutti gli altri youtuber ma è una cosa che porto avanti da tantissimo tempo io È il fatto che tutti vi sconsigliano la diversificazione perché vi permette raramente di sovraperformare Però in realtà noi stiamo vedendo in queste serie qua tra l'altro se vi siete persi gli altri video sugli altri top investor Ho creato una playlist apposta vi consiglio di recuperarvela Comunque vi dicevo abbiamo visto che praticamente tutti hanno sempre dei portafogli super super diversificati Considerate che Jim Simmons ha all'interno del suo portafoglio in realtà del suo hedge fund 3800 posizioni Le posizioni più grandi sono Novo Nordisk, Microsoft, Glead, AMD e Airbnb Andremo a vedere una valutazione mia personale tramite il mio algoritmo di queste 5 aziende O bene o male di 4 riesco a farvela di Glead purtroppo non funziona il mio algoritmo su queste aziende qua Quindi non posso valutarvela Quindi andremo a vedere queste 4 qua E poi un'altra cosa che ci tenevo a farvi vedere è questa sezione qua Dove possiamo andare a vedere gli ultimi trade fatti appunto dal hedge fund Infatti se noi andiamo su latest trades possiamo vedere come nel Q3 2022 Abbia praticamente venduto tutta la sua posizione in Meta, Apple, Shopify e Chevron Mentre ha aperto posizioni in Alphabet, Micron Technology, venduto Tesla, venduto Workday, venduto Berkshire Vedete che fa tantissimi movimenti Ha venduto Pepsi, ha incrementato AMD Quindi sostanzialmente aspettiamo che esca il Q4 comunque nel Q3 2022 ha fatto queste transazioni qua Andiamo a vedere quindi le sue maggiori posizioni tramite il mio algoritmo In modo tale da capire se potenzialmente può sovraperformare secondo le nostre statistiche L'esempio 500 da qua a 3 anni o appunto se teoricamente dovrebbe sottoperformarlo Tra l'altro io queste cose qua le faccio quasi sempre Perché voglio scovare quali sono i trend che stanno inseguendo gli investitori Ed è per questo che sono molto contento oggi di aver analizzato Airbnb tramite il mio algoritmo Perché ho scoperto un'azienda che potrebbe essere di nuovo molto molto interessante Forse ancora un po' troppo sopravvalutata ma sta raggiungendo dei prezzi veramente veramente molto interessanti Come potete vedere per quanto riguarda lo stato patrimoniale abbiamo un voto di 8,22 Per quanto riguarda il conto economico abbiamo un voto di 7,78 quindi molto molto buono Sui multipli prezzi abbiamo come vi dicevo prima un po' di sopravvalutazioni Tant'è che il voto è basso, è 3,44 Però andiamo a vedere qual è la crescita stimata dagli analisti e da me per i prossimi anni Per quanto mi riguarda una crescita molto fattibile per Airbnb per i prossimi 3 anni È potenzialmente una crescita tra i 18 e i 22% anno per l'utile operazione Che ci porta potenzialmente ad avere un prezzo tra 3 anni di 152 dollari Considerate che adesso Airbnb sta a 114 dollari Quindi il possibile gain non è altissimo Io poi sono stato abbastanza giusto a mio avviso dando un piede ad Airbnb tra 3 anni di circa 35-36 Che con i ritmi di crescita attuali ci può stare Però se proprio vi dovessi dire un prezzo che reputo più consono per Airbnb direi intorno ai 100 dollari Questo ci permetterebbe di avere più margini di sicurezza e quindi anche un possibile gain maggiore Per quanto riguarda AMD e Microsoft non sto a dilungarmi tantissimo perché ho fatto due video a riguardo AMD soprattutto ne ho parlato nel confronto con Intel e di Microsoft ne ho parlati praticamente in tutti gli ultimi video Perché tutti i top investor ce l'hanno in portafoglio Comunque considerate che AMD a mio avviso attualmente offre un buon risk reward Perché secondo i miei calcoli potremmo fare all'incirca un 50% da qua a 3 anni Ci sono però alcune cose che non mi convincono ancora nel conto economico Perché i margini sono troppo troppo bassi Voglio vedere nel momento in cui ci saranno le integrazioni perfette con Xilinx E quindi permetteranno magari di avere un'ottimizzazione dei costi e quindi un aumento dei margini Allora a quel punto lì penso che AMD potrà essere effettivamente una grandissima azienda Altro discorso invece è per Microsoft che come vi ho sempre detto A mio avviso è una delle migliori aziende che ci siano sul mercato Però a questi prezzi qua sinceramente non so se comprerei Penso che è un buon prezzo per Microsoft Diciamo che offra un buon risk reward da avere in portafoglio Direi che si può ottenere tra i 220 e i 230 dollari Considerate che attualmente secondo i miei calcoli si può fare un gain del 20% da qua a 3 anni Che non è assolutamente quello che vogliamo ottenere Sommando già addirittura il dividendo A questo punto qua direi che sicuramente intorno ai 200 dollari è perfetto Se no secondo me si può iniziare a pensare di aprire posizioni già intorno ai 220-230 dollari Però ovviamente io faccio i miei calcoli e possono anche semplicemente essere sbagliati Però fatemi voi sapere cosa ne pensate L'azienda più grande all'interno del suo portafoglio è Novo Nordisk Che andiamo a valutare tra poco Che semplicemente è un'azienda nel settore farmaceutico Che ha tra l'altro dei bilanci molto molto interessanti Considerate che ha un voto di 6,33% per quanto riguarda il sottopatrimoniale 9,44% per quanto riguarda il conto economico Perché ha dei margini e dei indicatori di redditività altissimi Considerate che ha un gross margin del 84% Un ROI del 73% quindi altissimo E un ROI del 62% Sono margini che fatico veramente tanto a trovare Però ha dei multiply che non mi fanno troppo impazzire Infatti ha un PA di 40 Un price to free cash flow di 31 Che è molto molto elevato E addirittura un price to sales di 11 No 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 Non ci siamo Ed è per questo che secondo me a questi prezzi qua Non conviene ancora pensare di aprire una posizione Semplicemente perché attualmente Novo Nordisk Ha un prezzo di 142 dollari per azione Ha un dividend yield dell'1.24% E se io stimo una crescita degli utili operazioni da 4 anni All'incirca di un 20% all'anno che non è basso E gli attribuisco un PA di 27 Che anche qua non è basso Otteniamo un possibile gain da 4 anni di solamente il 20% Quindi se proprio devo essere sincero Inizierei a pensare ad aprire una posizione in Novo Nordisk Forse intorno ai 115-116 dollari Ma inizierei a pensarci Sicuramente non ha questi prezzi qua Semplicemente perché non offre un buon risk reward Detto questo fatemi sapere cosa ne pensate di queste aziende qua E nulla ragazzi Ci becchiamo al prossimo video Ciao a tutti